Elezioni amministrative comunali 2021. Mi trovo a Vallo della Lucania. Sto per incontrare l'Avvocato Francesco Maiese, a cui andiamo a rivolgere delle domande inerenti ad una sua eventuale partecipazione alle, appunto, future elezioni amministrative nella città vallese. Avvocato Maiese, il suo impegno alle prossime elezioni amministrative che si terranno qui a Vallo della Lucani. Allora, il mio impegno sarà sicuramente quello di contribuire nella costruzione di una squadra fatta da uomini e donne che vogliano sicuramente partecipare attraverso un metodo e un'azione di lavoro politico diverso di quello affrontato soprattutto negli ultimi cinque anni. Allora, sicuramente mancano ormai pochi mesi alle elezioni amministrative e si sente parlare di qualche nome in giro, anche se penso che alcuni sono i soliti nomi che hanno gestito la città in questi anni, che è sempre afflitta dai soliti irrisolti problemi. Io penso che oggi bisogna costruire con delle persone, e sto incontrando tante persone che vogliano confrontarsi fra di loro e debbano partecipare con una certa determinazione all'azione amministrativa e lo debbano fare non come è stato fatto in alcuni casi in questi ultimi anni, a volte anche con una mancanza di voglia di partecipare, perché secondo me l'azione amministrativa degli ultimi cinque anni è stata un po' demotivata, perché bisogna parlare chiaro, bisogna dare discontinuità a questi ultimi cinque anni. Anche se il sindaco Tony Aloia si affanna in tv a dire che bisogna dare continuità e che sarà pronto a scendere di nuovo in campo. Io penso che bisogna costruire un percorso nuovo, soprattutto nel metodo di lavoro, e le persone che bisogna dare più spazio. Io ho una visione dell'azione amministrativa che veda una città aperta, che dialoghi, che i consiglieri comunali non siano dei soggetti che vadano in consiglio comunale ad alzare o abbassare la mano in base a delle scelte che sono state prese altrove. Io penso che in questo momento non bisogna fare nomi, tutti possono partecipare. Sicuramente bisogna trovare le persone o la persona che rappresenti un po' tale energie e soprattutto determinate sofferenze che si vivono in questo momento a Vallo della Lucania. Sto incontrando tante persone che hanno tanta voglia di confrontarsi, che sono determinate e che vogliono rappresentare la città soprattutto da un punto di vista attraverso soprattutto un percorso e un metodo politico nuovo di lavorare. Vedo un appiattimento nell'azione amministrativa, non vedo quella spinta di una visione o di quello che deve essere l'avallo del futuro. Questo secondo me, ripeto, vedo un'amministrazione demotivata che ormai, o perché ci troviamo alla fine di dieci anni di amministrazione a Loia, che ormai non vedo uno sbocco in questa amministrazione. Perciò io dico che bisogna costruire un percorso nuovo. Sicuramente il Covid è stata una cosa che ha sorpreso un po' tutti e amministrare in questo periodo non è stato semplice. Però io penso che questa demotivazione sia precedente al Covid. Quindi non si può giustificare il fatto che quest'ultimo anno ci siano state delle mancanze da parte di questa amministrazione già da tempo. Quindi ritengo opportuno che bisogna fare anche un'autocritica per chi ha amministrato e capire perché non si sono fatte alcune cose. Oggi penso che è questa la vera motivazione in cui andiamo incontro è quella di un'amministrazione che non ha saputo dare delle risposte alle tante domande dei nostri cittadini. Lei è pronto a scendere in campo dopo varie consultazioni, diciamo, con una squadra ben definita per il futuro di questa città. Ancora, diciamo, non è definita, quindi? No, ancora non è definito assolutamente nulla. Sicuramente il mio impegno ci sarà e già con tanti amici ci stiamo incontrando proprio per costruire un qualcosa che rappresenti un percorso nuovo. Poi il ruolo sarà una cosa che in questo momento nemmeno ai cittadini interessa tanto. Io penso che bisogna affrontare prima i temi per il rilancio e il riposizionamento dal punto di vista culturale, economico e sociale della nostra città. Grazie.